No, io in verità stavo aspettando che tu cantavi la canzone Il mondo cambierà per fargli saluti e per dire che la settimana prossima sarà ospite con noi il maestro Ciro De Rosa con Maria Farina con la sua collaboratrice Maria Farina e noi ci vediamo, maestro, ci vediamo mercoledì gli studi perché c'è un'altra canzone nuova che si deve preparare si deve preparare e salutiamo la nostra Matilde ciao Matilde e grazie per la bella canzone quindi al maestro ci vediamo martedì e mercoledì e lunedì saranno gli studi con noi e lunedì saranno gli studi con noi non ti sei dimenticata niente Mary? penso di no penso di no, non ti sei dimenticata niente